Sono sei i vincitori del concorso di idee del progetto dal titolo Nuova Centralità Urbana Piazza Santini. Delle 47 proposte arrivate da professionisti di tutta Italia a Capaccio Pestum, due si sono piazzate al primo posto ex equo, oltre al secondo e al terzo classificato assegnate poi due menzioni. L'amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dalla giunta nel dicembre 2019, ha voluto indire il concorso per dare nuove identità a uno dei luoghi centrali del territorio attraverso idee che non solo riqualificano Piazza Santini ma la valorizzino e ne facciano un luogo riconoscibile, un importante spazio pubblico per la vita cittadina. Martedì 26 gennaio la commissione giudicatrice, presieduta dal professor Francesco Domenico Moccia e riunita in seduta pubblica, ha proclamato i vincitori. I 30.000 euro messi in palio dal comune di Capaccio Pestum saranno divisi tra i due progetti valutati al primo posto a pari merito. Si tratta di due raggruppamenti di professionisti, uno con capogruppo l'architetto Antonio Citro di Roccapiemonte e l'altro con capogruppo l'architetto Enrico Bascherini, residente a Pietrasanta in provincia di Lucca. Le due idee, come le altre in concorso, rispondendo alle richieste dell'amministrazione, ripensano la piazza in ogni sua parte, facendo in modo che ogni angolo dialoghi con l'altro. Piazza Santini diventa un luogo d'incontro e di scambio, aperto a fruitori diversificati, turisti, lavoratori, abitanti del posto, un nodo di flussi e funzioni capace di generare aggregazione e identità. E non mancano nei due progetti richiami all'identità della città, alla sua storia e alle sue principali peculiarità. Al di là delle proposte vincitrici del concorso di idee che abbiamo immaginato per piazza Santini, dichiara il sindaco Franco Alfieri, sono tante e valide le idee progettuali arrivate redatte da professionisti di tutta Italia. Nessuno ha lavorato in vano perché per il progetto finale il comune di Capaccio Pesto mattingerà da tutte e 47 le idee. Prenderemo da ogni proposta quanto c'è di meglio e soprattutto di più appropriato all'idea della nuova centralità urbana che abbiamo in mente per piazza Santini e il rilancio socio-economico del centro cittadino.